Ciao ragazzi, faccio questo video per i miei amici e fans italiani perché ho qualcosa da dirvi. Praticamente in 48 ore sarò su un palco, quindi vi consiglio e vi chiedo di seguire l'evento perché non ci sarò soltanto io, saremo una dozzina di drag, una dozzina di drag e ci divertiremo tutti quanti con musica, balli, colori, glitter, profumi, sapori, risate, balletti, lip sync e quant'altro. Quindi per chi non fosse italiano e vede questo video voglio dirvi soltanto follow me on my channels on YouTube, on Facebook, Instagram, Google Plus and TikTok and more. Please follow me, share my video and enjoy the show. Ciao, ci vediamo presto! Ciao! Ciao!